Oggi martedì 17 maggio 2022. Buongiorno. Un'ordinanza firmata dallo Stato Maggiore della Difesa ha dato il via dieci giorni fa all'imponente manovra mare aperto che vede impegnati in simulazioni di guerra in Sardegna 4.000 effettivi provenienti da 7 paesi della Nato, 65 navi, caccia e reparti anfibi. Le esercitazioni continueranno fino al 27 maggio nei tre principali poligoni militari sardi di Quir, Capofrasca e Teulada, ma lo schieramento di forze è talmente vasto che la difesa ha bloccato anche altri siti fuori dalle basi permanenti. È durata oltre un'ora e mezza l'audizione del ministro Lorenzo Guerini davanti al Copasir. Il responsabile della difesa ha condiviso i contenuti del terzo decreto che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. Come in precedenza, la lista dei rifornimenti italiani a Kiev è stata secretata. Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ha spiegato che quanto, riferito dal ministro, è in linea con gli indirizzi dettati dal Parlamento. Tra le forniture ci sarebbero anche mezzi di artiglieria pesante, mezzi blindati leggeri di nuova generazione, niente droni ma strumenti sofisticati per intercettarli. Il generale Vincenzo Camporini sostiene che i nuovi ingressi nella Nato di Finlandia e Svezia non rischino di vedere un'America troppo forte se anche l'Europa deciderà di crescere mettendo insieme i vari cespugli e creando il pilastro europeo dell'alleanza atlantica. In tal modo gli Stati Uniti avrebbero un interlocutore di pari dignità. Ieri alla Camera dei Deputati per tre volte è mancato il numero legale sul voto della pregiudiziale di costituzionalità al decreto aiuti varato dal governo Draghi per contrastare gli effetti della crisi in Ucraina. Intanto a Palazzo Chigi si è svolto un faccia a faccia tra il premier Draghi e Salvini, conflitto in Ucraina, fornitura di armamenti e riforma della concorrenza ai temi sul tavolo. Come lo abbiamo trovato sul Catasto anche sulla riforma della concorrenza, conto che si arrivi a un accordo, ha detto il leader della Lega, lasciando Palazzo Chigi. Si è fermata al 48,4% l'adesione allo sciopero dei magistrati proclamato per ieri dall'Associazione Nazionale Magistrati con l'obiettivo di protestare contro la riforma della giustizia firmata dal ministro Guarda Sigilli, Marta Cartavia. Questa legge sarà pure compatibile ma è poco conforme allo spirito della Costituzione, attacca il presidente dell'ANM, Giuseppe Santa Lucia, convinto che la riforma rischi di causare un rallentamento della giustizia e punti a controllare i giudici. La politica estera, lo Stato Maggiore di Kiev, ha confermato l'evacuazione di 264 militari dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Si tratta di 53 soldati feriti condotti a Novoazovsk e di 211 altri combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai separatisti filorussi del Donetsk. Intanto, dopo la Finlandia, anche la Svezia ha chiesto ufficialmente di volere entrare nella NATO, abbandonando così la sua storica neutralità, notizia che ha subito scatenato l'irritazione di Mosca. Tuttavia, ieri è stata anche la Turchia a rilanciare i suoi dubbi e il suo veto all'ingresso delle due nazioni scandinave nell'Alleanza Atlantica. Non diremo sì a quei paesi che non prendono una posizione chiara contro il terrorismo, avvertito il presidente turco Erdogan. Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato come nuovo premier Elisabeth Borne, che succede all'attuale presidente del Consiglio, Jean Castex. La 61enne era ministra del lavoro e aveva già ricoperto i ruoli di ministro dei trasporti e dell'ecologia. Ora è incaricata di formare il nuovo governo francese e sarà la prima donna premier nel paese dopo 30 anni, quando il presidente francese Mitterrand nominò Edith Cresson. Economia e finanza. L'economia europea sta risentendo degli strascichi post-pandemia e del conflitto in Ucraina. Le previsioni economiche di primavera presentate dal commissario agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni fotografano un quadro preoccupante. Il prodotto interno lordo continentale dovrebbe essere del 2,7% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Le previsioni di febbraio indicavano una espansione dell'economia rispettivamente del 4% e del 2,7%. L'economia italiana invece dovrebbe crescere del 2,4% e del 1,9%. Le stime precedenti parlavano di più 4,1% e di più 2,3%. Per Gentiloni l'Italia deve continuare a essere cauta nell'affrontare le conseguenze della guerra. Ferrovie dello Stato ha lanciato il suo piano industriale per il periodo 2022-2031 da oltre 190 miliardi di euro. Secondo quanto annunciato, verrà data particolare attenzione alla transizione ecologica, puntando sull'efficientamento e sulla riduzione dei consumi. FS punta a coprire almeno il 40% del proprio fabbisogno di energia elettrica tramite l'installazione di impianti con fonti rinnovabili. La sfida? Modernizzare il paese, ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, in una intervista sul Corriere della Sera. Ed è tutto.